Muoversi. Infomobilità in Campania. Sul raccordo di Benevento, sino al 30 giugno è ridotta la carregiata nei pressi dello svincolo Castel del Lago in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7-4 Ardomiziana, sino al 28 aprile, attiva un restringimento di carregiata nel tratto compreso tra le località Varcaturo e Licola in entrambi i sensi di percorrenza. Sulla strada statale 163 Amalfitana, sino al 1 giugno, per lavori attivo un senso unico alternato tra le località minori e maggiori. Sulla statale 268 Del Vesuvio, sino al 31 maggio, è istituito uno scambio di carregiata tra le uscite Ottaviano Zona Industriale ed Ottaviano San Giuseppe e Vesuviano Nord in direzione Angri. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania